arriviamo appunto alla fine della filiera perché noi abbiamo parlato delle problematiche delle materie prime del gas degli imprenditori ma alla fine della filiera ci sono le persone che devono comprare questi prodotti finiti essenzialmente fabbricati l'inflazione ci sta massacrando tutte le persone che conosco mi raccontano che al supermercato vedono i prezzi che si lievitano ogni giorno praticamente o di settimana in settimana che succede ce la si farà in qualche modo perché le persone comunque quella busta paga quelli hanno di soldi a guardi è la situazione che avete molto molto grave occorre occorre ho fatto scelte prima bisogna intervenire sulla sulle tasse le tassazione l'unico metodo probabilmente per riuscire in qualche modo aiutare le persone sul cuno fiscale per dare più soldi in tasca ai lavoratori perché l'inflazione oggi al 10 per cento incide enormemente eroso il potere d'acquisto della gente e quindi erode anche quelle che è la potenzialità del nostro pile della possibilità anche del mercato interno quindi dobbiamo intervenire sul cuno fiscale per dare più soldi in tasca ai nostri lavoratori e favorire i consumi interni oltre a sostenere voglio dire per tante altre ragioni che vi abbiamo detto a tutte le famiglie e quindi è una necessità bisogna trovare un'iva diversa certamente su quelle che sono le materie prime di prima necessità il carrello della spesa voglio dire tradotto in termini pratici ma anche su quella che è il discorso l'iva sul piano dell'energia e quindi avere un piano voglio dire come ho detto prima di valutare in analisi quelle che sono il nostro bilancio dello stato è molto importante analizzare quello che sa il documento economico di fine anno per il prossimo periodo 23 e quindi io credo che si possono fare tanti tagli di cose di rivoli voglio dire che di piccoli rivoli ma che la sommati fanno diverse decine di miliardi e quindi intervenire sul sistema voglio dire sociale perché il sistema sociale è estremamente importante pari a quello economico sono di pari passo non è che neviene fuori primo uno o l'altro il welfare voglio dire anche all'interno del sistema delle imprese che stiamo facendo è molto importante ad esempio oltre a intervenire sul cuneo fiscale ad esempio gli aumenti contrattuali devono essere defiscalizzati e decontribuiti in accordo anche con il sindacato ma anche i premi di produzione e quindi bisogna intervenire anche in certi settori come l'agricolo e l'agroalimentare o il turismo bisogna intervenire con i voucher senza ideologia e quindi questo è fondamentale chiaro chiarissimo sento l'ultima domanda grazie a tutti Grazie a tutti.